noi siamo del circolo arci di petroio e ne siamo orgogliosi siamo una comunità che fa piccoli gesti con questi gesti costruisce una storia qui di generazione in generazione viene trasmesso il valore della libertà del fatto che viverla più che invocarla sia il modo per onorare chi ha lottato e si è sacrificato per essa tutti gli anni celebriamo il 25 aprile proprio per questo motivo in questo strano anno il nostro piccolo gesto di memoria e libertà e questo video resisti vediamo